Verranno pagati entro il 10 di settembre gli stipendi arretrati dei lavoratori dell'ATR di Colonnella. Una buona notizia è emersa dall'incontro avvenuto tra sindacati e la nuova proprietà. Dopo essersi presentato alle organizzazioni dei lavoratori nel corso dell'incontro avvenuto in Regione il 4 luglio scorso, l'imprenditore di origini marsicane Antonio Di Murro è tornato ad incontrare i rappresentanti dei lavoratori direttamente in azienda, confermando la volontà di acquistare l'ATR e annunciando che le trattative con la curatera sono oramai a buon punto. Finalmente cominciamo a vedere un po' di luce in fondo al tunnel, anche se il tunnel dobbiamo ancora percorrerlo, quindi per arrivare alla meta dobbiamo aspettare il 10 di settembre. Il dottor Di Murro si è presentato come nuovo acquirente dell'ATR, in questi giorni sta trattando con la curatera per acquisirla e ci ha paventato le sue volontà e una sorta di piano industriale per il futuro, premesso che si è impegnato a saldare tutti gli stipendi mancanti entro il 10 di settembre e in più di saldare tutti i TFR mancanti per le persone che sono uscite dall'ATR e in più di coprire tutte le eventuali mancanze per i fondi pensioni dei lavoratori. Si parla, da come ci ha detto lui, di una nuova prospettiva per l'ATR, cioè nel senso di creare un marchio di proprietà dell'ATR stessa, non essere più legati alle case automobilistiche, anche se si continua a lavorare per le case automobilistiche, però purtroppo, come dice anche lui, ma è così, quando le aziende in difficoltà come l'ATR e come tante altre aziende, le aziende committenti tendono sempre a fare dei prezzi molto bassi e le aziende per fatturare prendono di tutto e quindi a rimessa. Noi abbiamo un ulteriore incontro il 30 di luglio per stabilire l'eventuale percentuale che daranno di stipendio, ma molto probabilmente sarà il 70% della mensilità di maggio per i lavoratori per mandarli in ferrie e lì staremo a conoscenza degli ulteriori sviluppi fatti con il passaggio alla cura terra fallimentare.